Allora, sicuramente da domani mattina i bagni saranno riaperti perché stiamo provvedendo a sistemarli alla meglio. Per quanto riguarda le telecamere di sicurezza, purtroppo non ci sono ancora, però abbiamo già portato da un mese, un mese e mezzo e non ci sono state ancora fornite. Sicuramente al 100% nei prossimi giorni avremo anche le telecamere di sicurezza. Io non sono convinto che siano ragazzini a questo punto perché purtroppo sono state anche diverse delle porte nei bagni, quindi ci sarà sicuramente qualcuno un po' più grandicello. Già abbiamo fatto dei lavori e sicuramente dentro oggi pomeriggio saranno attivati.